Noi chiamiamo questa operazione speciale militare, non la guerra propriamente detto, credo che tutto segue un piano concreto creato dal nostro Presidente e credo che noi incontriamo la resistenza del grande esercito ucraino che era concentrato nella parte d'este dell'Ucraina, la maggioranza dell'esercito ucraino preparato e molto bene armato e con questo esercito abbiamo la lotta, la lotta difficile, ma il nostro esercito progressa e credo che nel uno o due mesi tutto sarà finito. Perché non consideriamo lo Stato ucraniano come lo Stato sovrano nazionale propriamente detto? Consideriamo che questo spazio sta sotto occupazione del regime nazista che non è legittimo, che non possiamo considerare come un'entità sovrana e per questo abbiamo chiamato, la Russia, Presidente Putin ha chiamato questa operazione militare speciale e non possiamo utilizzare, usare oltre nome. Per tutti che stanno nella Russia è necessario di chiamare questa operazione militare speciale. Ma tutta la politica dei nazisti aperti o dei nazisti nazisti nascosti ucraini e tutta la politica è antirussa, è russafobia e questa identità ultranazionalista è la unica identità citata nell'Ucraina dopo Maidan. Prima di Maidan c'erano due ucraine più o meno nell'equilibrio, una parte dell'ovest, una parte dell'est e due identità dei due popoli che stanno dentro dello Stato ucraino avevano il diritto di partecipare nella politica. Dopo Maidan solo l'identità dell'ovest ucraina era considerata come l'unica possibile con la proibizione del linguaggio russo e tutte altre forme. Questo non si tratta dei gruppi nazisti che si sono presenti nell'Ucraina. E ieri Bernard Henri Lévy, un massimo rappresentante del liberalismo globalista, ha incontrato in Adessa un colonnele di battaglione Aydar, che è un nazista conosciuto, riconosciuto e criminale della guerra. Per questa collusione, questa unione tra i liberali e i nazisti nell'Ucraina è il fatto. Il nazismo in Ucraina è il fenomeno molto più grande che alcuni gruppi apertamente neonazi con svastica e tutte altre cose. La lotta della Russia per denazificare Ucraina non è solo contro questi gruppi o questi battaglioni della morte che lottano, che fanno tutti crimi militari contro i civili, crimi contro l'umanità. Non solo questo, questa denazificazione e le operazioni contro questo orientamento e direzione del governo ucraino, che unisce in se stesso il fattore del nazismo, della rossofobia, del globalismo e dell'idea e della necessità di creare il punto dell'attacco contro la Russia. E questa concentrazione dell'esercito ucraino nell'est del paese significa che l'esercito ucraino ha voluto cominciare l'operazione militare contro Donbass, contro Crimea e l'esercito russo ha trovato i provi di questi progetti di Kiev. Anche per questo senza porre un controllo, porre Ucraina sotto il controllo della Russia non possiamo arrivare alla realizzazione di questi scopi. Almeno credo che comprendo più o meno l'idea del nostro Presidente Vladimir Putin. Ci sono due aspetti, secondo me c'è un aspetto puramente strategico militare perché con questa concentrazione dell'esercito ucraino nell'est del paese non era possibile militarmente vincere e aiutare le repubbliche di Donetsk affrontando questo esercito di una maniera diretta senza colpire prima le basi militari in tutto il spazio dell'Ucraina. Militarmente questo è molto chiaro per i strategisti russi e questa è una cosa. Altra cosa è che il problema è che non è il conflitto con Ucraina direttamente, questo è il conflitto con Occidente, con l'ordine globale liberale come ha detto giustamente Francis Fukuyama recentemente e credo che precisamente Nato è cominciata la strategia di porre sotto controllo dell'Occidente il spazio post-sovietico quando la Russia era debole. Oggi quando la Russia con Putin è diventata più forte non possiamo tollerare più questo controllo sulla zona dei nostri interessi nazionali e per questo è la risposta al Nato che Nato ha voluto integrare l'Ucraina prima o tardi e non ha voluto considerare le nostre proposte che Putin ha dato a Nato e dopo di questo, questa decisione che era molto difficile per Putin credo era presa. Militarmente è una cosa e questa idea di fare il passaggio definitivo irreversibile dal mondo unipolare al mondo multipolare dal globalismo, dall'egemonia occidentale liberale globalista che usa anche il nazismo contro noi, non era tollerabile per la Russia che è diventata abbastanza forte per assicurare la vittoria. Senza questo non sarebbe possibile questa operazione militare speciale. Credo che la Russia era più debole. Nato ha fatto il passo radicale dopo il crollo dell'Unione Sovietica cominciando questa reintegrazione del spazio vuoto o lasciato vuoto con questo crollo per porre sue proprie strutture nella zona dei interessi nazionali russi ma questa la Russia di Yeltsin era pro liberale, pro occidentale, pro atlanticista è debole anche nessuno ha potuto reagire contro questo Putin quando è venuto e è diventato presidente della Russia è cominciato di preparazione per restaurazione della Russia come il potere sovrano che non potrebbe come il potere sovrano essere blocchiato dal OTAN per questo credo che le relazioni erano meno radicali ma non erano buone tra Nato e Russia e per esempio altro esempio con Trump Putin non comincerebbe questa operazione perché Trump era realista Trump era forte Trump era il presidente nazionale che potrebbe accettare multipolarità senza questo conflitto ma con Biden con questi globalisti fanatici del globalismo ultraliberalismo e hegemonia Build Big Better il slogan di Biden è ritorniamo alla unipolarità ritorniamo al globalismo degli anni 90 e contro questo la Russia reagisce oggi credo che precisamente la colpa colpabilità è precisamente dell'Occidente che continua a fare pressione con Nato contro la Russia che vuole continuare di non comprendere continuare a non comprendere che la Russia è diventata altra cosa che prima nel tempo di Yeltsin per questo è la prova oggi viviamo nella prova del passaggio dell'unipolarità e hegemonia occidentale incontestabile all'altro ordine del mondo ordine multipolare del mondo e Putin ha cominciato questo come la risposta in certo senso al ritorno dei globalisti ultra partigiani dell'unipolarismo radicali liberali fanatici con Trump non sarebbe non credo che con Trump come Presidente degli Stati Uniti noi avremmo abbiamo la stessa situazione credo che c'è una visione falsa totalmente falsa nell'Occidente del corso del sviluppo dell'operazione speciale militare perché nessuno qua nella Russia pensava o immaginava che questo potrebbe essere un'operazione molto facile che la popolazione dopo tanti anni della propaganda occidentale e nazista accetterebbe facilmente i russi o che esercito preparato armato dall'Occidente e con grande appoggio del Nato dei paesi di Nato e degli Stati Uniti potrebbe essere vinto in una settimana non ci sono qua idioti nell'esercito che fanno tante operazioni molto serie molto difficili per questo credo che la nostra intelligenza era totalmente corretta non non abbiamo abbiato nessuna idea della vittoria rapida siamo totalmente pronti che questa situazione durerebbe due o tre forse quattro mesi è molto difficile di porre il grande controllo con la grande popolazione sotto il controllo dopo tutti questi anni della contrapropaganda ma credo che la situazione essendo difficile non è assolutamente fatale e tutte le analisi dell'autore occidentale della stampa occidentale comincia la Russia perderà quando la Russia perderà la Russia è destinata a perdere tutti tutti non è analisi è una propaganda di guerra analisi è se la Russia perderà una cosa se la Russia vincerà altra cosa ma questa analisi che non lascia la possibilità di due risultati di questa operazione preparata organizzata molto bene della parte della Russia ma anche preparazione del nemico dei gruppi neonazisti ucrainiani dell'esercito di questa entità russofoba che è diventata ucraina anche abbastanza abbastanza buona abbastanza alta per questo credo che dobbiamo la unica incertezza nel tutto quello e questo è precisamente la reazione dell'Occidente se Nato sarà coinvolto direttamente questo significherà altra cosa e l'escalazione o il conflitto sarà diverso e non come oggi ma senza questa possibilità che non dobbiamo escludere dobbiamo anche con analisi oggettivo più o meno equilibrato dobbiamo considerare almeno se questo produrrà non è possibile dire niente dopo questo scontro diretto con Nato questo è fuori da mia comprensione ma se questo non produrrà credo che alcuni mesi con molte difficoltà la Russia vincerà forse più rapidamente chissà ma credo che il bilancio l'equilibrio il rapporto dei poteri e delle forze oggi si mostrano che la Russia vince questa operazione militare speciale e finalmente vincerà se sarà il conflitto sarebbe il conflitto diretto con Nato nessuna 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 idea almeno io non ho nessuna idea come si potrebbe sviluppare questa situazione critica precisamente terza guerra mondiale credo che intervenzione di Nato intervenzione diretta di Nato nel conflitto significerà con questo fatto stesso la guerra nucleare perché l'incontro scontro tra due poteri nucleari significa che arma nucleare può essere usata da ambe due poteri non può parlare non sono specialista nell'arma nucleare secondo me questo significherà annichilazione dell'umanità e per questo credo che non può essere il caso credo che Nato e Mosca sono abbastanza intelligenti e responsabili per non usare arma nucleare ma questo è possibile solo quando ambe due poteri non usano arma nucleare e senza arma nucleare senza considerare questa possibilità che non si può escludere teoricamente fuori di questo la vittoria della Russia è inevitabile con un certo tempo ma credo che interessi scopi sono diversi per la Russia e questa è la questione esistenziale ontologica essere e non essere perché con l'Ucraina la Russia diventerà automaticamente il polo dell'ordine multipolare senza l'Ucraina come diceva Zbigny Brzezinski la Russia sarà sempre non perfetta e sottomessa al potere atlanticista per questo per Mosca questa è la questione questa è la questione ontologica essere e non o non essere per Occidente per gli Stati Uniti per i globalisti è serio è serio la sfida è molto seria ma non è vitale perché niente si cambierà se la Russia e l'Ucraina si riunificano nel certo nel certo futuro o il cambiamento del regime nell'Ucraina farà di questa entità lo Stato amicale pro russo questo è serio ma non mortale per la Russia perdere questa battaglia è mortale questa è la differenza per questo la Russia non 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 potrebbe parare nel questo conflitto questo è a escludere la Russia può o vincere o essere radicalmente distrutta per per noi questa è la sfida vitale la sfida esistenziale la sfida ontologica non possiamo perdere non c'è una questa possibilità non possiamo o vincere o essere distrutti e questo significa la 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 differenza tra stato dello spirito della mente dei dirigenti russi e i dirigenti occidentali perché per per occidente questo è serio ma non vitale per noi è più che serio è vitale chiarissimo però allora le faccio una domanda che insomma viene naturale tornando appunto all'Ucraina Zelensky ha preso circa il 43% all'ultima elezione al primo turno nei fatti non è un atto di imperialismo rovesciare un presidente e il regime che ha generato però di un presidente democratico lo stesso possiamo domandare ai Stati Uniti che hanno fatto l'invasione dell'Iraq hanno distrutto la Siria hanno fatto l'invasione dell'Afghanistan con i governi che erano più o meno democraticamente eletti ma la democrazia è sempre a sue proprie limite credo credo che voi siete totalmente libri di trovare i nomi per qualificare l'operazione speciale militare e le sue conseguenze questo dipende di noi ma oggi non dipende di noi questa scelta dei nomi delle parole per qualificare la nostra azione ma che è importante che per la Russia attuale non c'è più la realtà universale le regole universali liberali democratici universalmente ha citato per Mosca oggi è molto chiare che occidente il potere despotico egemonico e ipocrito usa enormi i valori della democrazia del liberalismo dei diritti umani quando questi valori coincidono con interessi per questo è una maniera non 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 sincera non non giusta ad usare queste forme quando valore coincide con interesse questo valore è accettato quando certo valore non coincide con interesse dell'accidente non è accettato non è visto per esempio è possibile di uccidere la gente di Donbass non è possibile di uccidere la gente di Ucraina ma la gente è la gente uomini donne e bambini sono uomini donne e bambini per occidente i vittimi tra popolazione prorussa non sono vittime sono criminale e quando Mosca ha compreso radicalmente profondamente questa epocrisia hegemonica dell'accidente è cominciato di condurre di una maniera simmetrica vivo nel Mosca non vedo nessuna manifestazione intorno di mi vivo nel centro delle città ci sono alcuni gruppi che non sono d'accordo certo ci sono i liberali ci sono nazisti ci sono ucraini che protestano ma non credo che c'è un movimento più o meno grande di questa protestazione fuori dei liberali nazisti ucraini tutti altri la maggioranza totale appoggia questa operazione c'è un risveglio grande risveglio patriotico nella Russia attuale e in stessa situazione il governo deve deve è obbligato di fare molte riforme interne della Russia perché non è possibile di continuare con tutte queste sanzioni di continuare la maniera di vivere come prima bisogna cambiare molto bisogna cambiare ideologia dominante perché non abbiamo oggi nessuna ideologia ma oggi è chiaro che è necessario di spiegare nostra posizione nostra civiltà nostra cultura nostra identità e tutti questi processi del risveglio russo ci stanno molto osservati molto chiari e credo che la Russia ritorna a sua identità a sua missione di di contrapporre altra verità contro questa presunta verità del globalizzazione del tecnocrazia della politica del genere e l'Occidente questa operazione militare non è solo contro Ucraina postmodernismo liberale contro l'attuale fase dell'egemonia globalista ultraliberale postmoderna contro occidente contemporaneo non contro occidente come la storia classica o il valore tradizionale questa è la lotta contro occidente antitradizionale contemporaneo che fa rottura con sui propri valori questo è vostro nome per identificare la situazione che è certo che la democrazia liberale come è compresa nell'occidente globalista attuale non è più considerata come valore universale per questo possiamo accettare possiamo rifiutare non è necessariamente il liberale ma questa democrazia liberale e sue norme sono considerati oggi nella Russia come opzionale come una forma regionale e questo è il risultato del sviluppo dell'occidente moderno dell'occidente o post moderno occidente contemporaneo che non è tutto occidente perché alcuni anni fa non c'erano tanti valori del GBT più e altri come valore universale per questo la Russia non accetta questi valori occidentali incluso liberalismo democratico o democrazia liberale con i valori universali sono valori postmoderni liberali occidentali questo è buono o cattivo non 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 è il nostro problema noi abbiamo i valori russi che è più importante i valori tradizionali cristiani ortodossi per noi la famiglia è sacra dell'uomo e la donna per noi sovranità è il valore più alto indipendenza dello stato e la libertà di continuare nostra tradizione questa è nostra sacralità e le democrazie liberali non è niente di sacro per noi al netto appunto degli ultimi sviluppi politici e geopolitici è Putin ancora così popolare più popolare che mai più popolare che mai più popolare che mai e come mai e come fa ad essere ancora così forte sempre Putin è popolare Putin comprende il popolo Putin sta al favore al lato del popolo contro l'elite questo è il problema che l'Occidente è governato dall'elite che sono antipopolare che che precisamente non comprendono non amano detestano il popolo e per questo tutti tutti politiche che che sono al favore al favore del popolo sono chiamati peggioramente scusi professore la devi interrompere un attimo Putin è più popolare che mai perché Putin sta al lato del popolo il liberale il liberale chiamano questo populismo e perché no ma Putin sta al lato del del popolo comprende il popolo russo condividua i suoi propri valori e pensieri e non sta con l'elite liberale universalista e globalista questo è il grande segreto della sua popolarità credo che certo che la Russia e la Cina attualmente sono più vicini che mai sono alleati strategici e credo che la Cina sirve serve come l'appoggio centrale per la Russia attuale precisamente questa alleanza tra la Cina e la Russia è la condizione vitale esistenziale della multipolarità la Russia la Russia non rappresenta nessun pericolo per la Cina la Cina non rappresenta almeno oggi il pericolo per la Russia e ambe due poteri che sono grandi sono diventati i poli indipendenti sovrani indipendenti dall'Occidente per questo quando Occidente impone queste sanzioni contro noi la Russia si dirige naturalmente alla Cina la Cina è pronta per questo e credo che questa alleanza tra la Cina e la Russia già è la condizione necessaria e inevitabile della creazione del sistema mondiale multipolare dopo della vittoria della Russia se se accettiamo accettiamo questa possibilità dopo la vittoria della Russia credo che multipolarità sarà riconosciuta dai tutti e dopo di questo altri poli potrebbero apparirsi questa questa alleanza tra la Russia e la Cina è l'inizio è l'inizio del mondo multipolare altri poli potrebbero apparirsi come la India come il mondo islamico come Europa indipendente continentale indipendente degli anglosassoni e America Latina e Africa questo è il primo conflitto del passaggio alla multipolarità e nel contesto delle realtà già provata ci sono due poteri che possono essere considerati come i poli perfetti già fatti questo è la Russia e la Cina e l'alleanza tra loro si inscrive è logica è logica per il contesto geopolitico del mondo multipolare e per questo grazie a Cina e a altre aperture all'Iran grazie a Turchia grazie ai paesi islamici a Pakistan e al mondo arabe grazie alle relazioni con l'America Latina e Africa la Russia può vincere anche la situazione con le sanzioni questa è la guerra dell'umanità contro l'Occidente questa non è la guerra della Russia contro l'Ucraina è l'umanità che comincia a liberarsi dall'Occidente questa è la prima inizio di questo processo della liberazione dell'umanità dell'egemonia occidentale e dell'elite liberale totalitaria fare la zona controllata dai cinesi nel Rimland dell'Eurasia era il progetto atlanticista dei Brzezinski e altri strategisti ma poco a poco con Xi Jinping la Cina ha cambiato moltissimo ha cambiato sua politica internazionale la Cina e Beijing ha compreso che non è possibile di seguire nel contesto dell'Occidente che l'Occidente è il nemico numero uno e per affermarsi come il polo sovrano la Cina ne ha bisogno esistenzialmente esistenzialmente bisogno di Russia e questo è nel certo senso questo è il sviluppo dei due tre o quattro ultimi anni e credo che questo cambio della politica generale della geopolitica la strategia cinese non era compresa nell'Occidente non era osservata correttamente e oggi è troppo tardi perché oggi questa alleanza tra la Russia e la Cina tra Xi Jinping e Putin è già la realtà è la realtà basata su visioni comuni di questo passaggio dall'unipolarità all'multipolarità